Sabato 2 marzo alle ore 11 presso la Sala Vincinanza del Comune di Battipaglia sarà presentato il progetto di recupero e valorizzazione della rosa nel quartiere Taverna alla presenza delle istituzioni della Presidente dell'Associazione Wonder, Tortilla Anna Serriello, della responsabile dei progetti Invasioni Botaniche Simona Otranto e degli attori che hanno contribuito all'elaborazione dell'idea. Per il quartiere Taverna sarà presente Don Luigi Piccolo. Siamo al punto di partenza potrei dire. Sabato presentiamo questa idea che nasce da Anna Serriello che è Presidente dell'Associazione Wonder e Tortilla e che è stata abbracciata dal gruppo, dalla squadra di Invasioni Botaniche. Si tratta del recupero e della valorizzazione della rosa nel quartiere proprio di Taverna che rientra in un ampio territorio che era un tempo terra delle rose dove la presenza della coltivazione della rosa è testimoniata già dai primi anni dell'Ottocento. Quindi sabato presenteremo questo progetto che è molto bello e molto ampio che vede anche poi la partecipazione anche del Comune che ha stanziato proprio un contributo.